Oggi vi presento il libro illustrato Boom l'elefantino di Oreste Castagna e Alessandra Vitelli, edito da Pauline. Questo è un libro scritto con easy reading font, un carattere ad alta leggibilità, quindi fruibile anche a chi fa un po' fatica leggere. E leggimi in maiuscolo, infatti è tutto scritto a maiuscolo. Quella di Boom l'elefantino è una storia di coraggio e autostima, di cura e condivisione. Boom ha un dono, ma è la fiducia degli altri, la vera molla, per superare ogni paura. Se inquadri il QR code, troverai un video tutorial per costruire con carta e colla la testa di mamma elefante e del piccolo Boom. Questo è un libro illustrato molto carino, sottile e sottile per le prime letture. Una storia tratta dalle carta storie di Oreste Castagna, illustrato da Alessandra Vitelli. Leggiamo la prima pagina. Eccolo qua. In una grande giungla c'era una radura chiamata la Radura Dorata, dove vivevano gli animali anziani che ricevevano aiuto e cure. Ogni giorno Leonessa Marisa organizzava per loro uno spettacolo per renderli felici. Quel giorno d'autunno avrebbe dovuto esibirsi in margo orango, famoso in tutta la giungla, ma il poveretto aveva un brutto mal di pancia, perché aveva mangiato troppe banane durante le prove del suo nuovo spettacolo intitolato La scomparsa delle mille banane. E adesso come faremo? Rugiva Leonessa. Marisa, i nostri nonni oggi non potranno sorridere. Sali allora sulla grande roccia e urlò, amici animali, qualcuno di voi sa fare un gioco, cantare una canzone, esibirsi con un balletto. Tutti risposero di no, tranne mamma Elefante, che alzò la proboscide e disse, mio figlio Boom suona benissimo con la sua proboscide. Boom, fatti vedere. Ma Boom si nascose, dicendo timidamente. No, non è vero. E scappò via, veloce, per andare a nascondersi tra i grandi alberi. Mamma Elefante e tutti gli animali rimasero stupiti. Non preoccuparti, mamma Elefante, disse Marisa. Torna tranquilla a casa, troveremo una soluzione. Tornate tutti a casa e non date più banane a mago orango. Cosa succederà ora? Cosa deciderà il piccolo Boom? Per saperlo dovete leggere questo libro. Boom l'elefantino, di Oreste Castagna, illustrato da Alessandra Vitelli, edito da Paoline Edizioni.